2-0 il primo tempo della Juventus contro una ottima Lazio, ricordiamo la Lazio che ha battuto il Napoli, la squadra che ha vinto il campionato, l'ultimo campionato e l'ha battuta anche nettamente con merito. Oggi una ottima Lazio che sta giocando a viso aperto contro la Juventus, una Juventus che ha fatto un primo tempo fin qui. Poi commenteremo anche il secondo tempo ma ci tenevo a dirvi la mia perché sto vivendo un sogno, una Juventus magica, tutti e dico tutti stanno dando il 110% di quello che hanno. Questa è la prova che la curva, che il tifo, che l'appoggio dei tifosi può dare e dà senz'altro qualcosa in più perché un pubblico sontuoso durante un primo tempo magico che accompagna la squadra per tutti i 45 minuti sempre cantando, sempre accompagnando la propria squadra. Ricordiamo che non abbiamo molto equipaggiamento per poter far sentire la nostra voce ma nonostante ciò lo Juventus Stadium è una bolgia. Vergognoso il commento di Dazon che non parla mai di questo, non commenta mai il fatto che i tifosi della Juventus stanno dando quell'appoggio in più perché ricordiamo la Juventus sono gli stessi giocatori della partita scorsa quindi ognuno adesso sta dando qualcosa in più proprio perché i tifosi li stanno spingendo. Questa è la prova che la Juve in casa se ha questo pubblico diventa di nuovo la Juventus dei primi anni praticamente imbattibile perché la forza che danno, l'apporto che danno è entusiasmante. Ma andiamo a parlare dei gol, il primo gol di Dusan Vlaovic che arriva dopo un assist di Locatelli, mi sembra di Locatelli, addirittura oggi Locatelli una partita, un primo tempo strepitoso. Io sapete che Locatelli lo boccio ogni volta che posso ma sia Miretti che Locatelli questo primo tempo ci hanno fatto veramente rimangiare tutte le parole, tutti gli aggettivi che abbiamo utilizzato contro di loro. Ricordiamo sempre un orologio rotto due volte al giorno, segna l'ora giusta, oggi tutti stanno segnando l'orario esatto perché anche Rabiot sta facendo un partitone. Il primo gol di Vlaovic è un gol davvero e proprio attaccante puro, cosa che Lukaku queste cose se le sogna. Vlaovic che arriva alla palla di controbalzo, tira di prima e la butta dentro in sacca e porta la Juve in vantaggio dopo aver creato già tantissimo. Per non parlare poi del secondo gol di sinistro di Chiesa dopo un cambio campo sempre di Locatelli che ha imparato a verticalizzare addirittura un piede preciso, un lancio millimetrico per il piede di McKennie che poi costruisce l'azione e insieme a Rabiot accompagnano poi Chiesa a buttarla dentro per il gol del 2-0 sotto gli occhi increduli dell'arbitro Partenopeo che fino adesso ha fatto capire con due falli e due munizioni per conto della Juventus come debbono andare le cose. Un arbitraggio un po' strano per quanto riguarda proprio la gestione dei cartellini giallo ma che tutto sommato è un arbitraggio che ci può stare. La Lazio nel suo ha risposto come poteva, ha avuto con il suo giocatore straniero la possibilità di battere a rete davanti alla Chiesa che non si è fatto ipnotizzare e ha deviato in calcio d'angolo ma comunque la Juve non ha rischiato tanto. Una Lazio molto ordinata fino alla tre quarti che poi però sbatte contro il muro bianconero che oggi è davvero in questi 45 minuti impenetrabile. Spero di poter raccontare un secondo tempo così con lo stesso animo e con la stessa gioia perché mi stanno facendo sognare tutto questo e grazie al dodicesimo uomo in campo che è il pubblico bianconero che con tutto ciò che ha avuto delle forti limitazioni per quanto riguarda proprio il poter esprimere il proprio calore ai giocatori non sta facendo sentire la mancanza di questi gadget che avrebbe aiutato a far sentire ancora di più la bolgia bianconera che accompagna proprio i calciatori. Detto questo noi ci rivediamo alla fine della partita andiamo a vedere come finisce il secondo tempo un abbraccio a tutti ciao a io